Insomma è da quando esiste iPad Pro che la domanda è sempre la stessa, può sostituire un computer? Beh la domanda è interessante a maggior ragione ora che gli iPad hanno il chip M2 e il supporto vero ai monitor esterni, oggi vi farò vedere nel dettaglio come attivare Stage Manager, come funziona i pro e contro e alla fine credo che potrete capire voi stessi se iPad può essere un sostituto del computer o semplicemente un compagno del computer. La cosa più incredibile però è che basta un singolo cavo USB-C collegato ad iPad perché si compia la magia, ma per sfruttare Stage Manager ci sono alcuni requisiti da rispettare, primo tra tutti è necessario avere un iPad con chip M1 o M2, questo vuol dire che sono supportati ad oggi gli iPad Pro ma anche gli iPad Air con il chip M1, a prescindere dalle dimensioni del display o dai tagli di memoria, insomma si collega l'iPad al monitor tramite la porta USB-C, nel mio caso io ho uno studio display di Apple con la sua porta Thunderbolt ma vale lo stesso discorso per un qualsiasi altro monitor che abbia l'USB-C, il vantaggio in questo caso è quello di avere un singolo cavo per il segnale video, per il segnale audio, per il passaggio dei dati e anche per l'alimentazione di iPad e in questo caso supporta monitor fino a 6K. Nel caso di un monitor normale è invece necessario avere un adattatore che fornisca una porta HDMI e ovviamente una porta di alimentazione, ce ne sono tantissimi di adattatori, ne basta anche uno molto molto semplice come questo che vedete che è anche molto compatto. Perché tutto funzioni è però necessario avere anche una tastiera e un mouse esterni oppure collegare le Magic Keyboard. Io in realtà ho scelto una tastiera che ho comprato da poco su Amazon, la Epo Maker TH80 con switch gialli, tastiera meccanica wireless che vi consiglio a prescindere dall'uso che ne farete perché sì mi ci sono trovato davvero molto molto bene, sentite qua come suona. Mi piace tanto scrivere con lei e mi piace molto anche esteticamente parlando, i tasti poi hanno una resistenza quasi burrosa, insomma è incredibilmente soddisfacente dal mio punto di vista. Parliamo di una tastiera compatta al 75% con layout americano e alcune chicche come la retroilluminazione che io non amo tantissimo, ma soprattutto la manopola laterale per il controllo del volume che funziona anche con iPad. Questa tastiera va bene anche col PC, col Mac, insomma ci sono in confezione poi anche i tasti da sostituire a seconda del sistema che userete. Lo ripeto non mi pagano per dirlo, nemmeno me l'hanno regalata, me la sono comprata su Amazon e quindi ve la consiglio davvero se amate un po' il feeling da tastiera meccanica e questo look vagamente anni 90. Per il mouse invece ho collegato il mio solito MX Master 3S in colorazione bianca che resta il miglior mouse da lavoro secondo il mio modesto parere. Comunque appena collegato il monitor ad iPad appare per la prima volta questa schermata e poi ti manderà subito la configurazione del setup che può essere il vecchio duplica monitor oppure monitor esteso che di fatto crea due ambienti separati dove poter lavorare. Qui è interessante capire come posizionerete iPad rispetto al monitor, io ad esempio utilizzo questo braccio da scrivania magnetico molto comodo perché mi permette di spostare o ruotare iPad a seconda delle esigenze sia in verticale che in orizzontale e la rotazione come vedete non va assolutamente a influire su quella che è la visualizzazione sul monitor esterno. In alcuni casi si può utilizzare anche uno stand da scrivania insomma potete posizionare l'iPad come volete. A proposito di tutti questi accessori che vedete sulla scrivania io comunque magari non ne parlerò specificatamente in questo video ma vi lascio il link qui sotto in descrizione compresa la luce che vedete sopra al monitor. Comunque il fatto di impostare correttamente la posizione di iPad è necessario per far capire al sistema dove deve passare il cursore quando si passa da una schermata all'altra. Quello che salta subito all'occhio è però ovviamente la schermata del monitor esteso, di fatto identica o quasi a quella che si ha su Mac con la dock delle app nella parte bassa e le informazioni sulla barra superiore. Un grande spazio a disposizione per lavorare a finestre in un modo tale che prima era davvero sconosciuto ad iPad e qui ad onor del vero sta il grande passo avanti di iPadOS. Ora è realmente possibile lavorare con diverse applicazioni aperte in modalità desktop proprio come se fosse un computer passando da una all'altra con estrema facilità a maggior ragione se si tiene attivato lo stage manager. A proposito la mia configurazione ideale è questa stage manager attivato sul monitor e disattivato su iPad dove a mio parere con un display piccolo da un po' fastidio, però è bello che da sistema si può scegliere se attivarlo su entrambi o disattivarlo, insomma c'è ampia personalizzazione. In queste immagini state già vedendo come le applicazioni possono essere messe sia a schermo intero o ridimensionate messe una a fianco all'altro, sembra proprio di utilizzare un Mac ma ci sono differenze importanti da dover conoscere, le finestre non possono essere posizionate liberamente nel senso che non vanno mai a sovrapporsi, il sistema guida e forza il ridimensionamento e il posizionamento per fare in modo che siano sempre ordinate una a fianco all'altra. Ecco questa cosa da una parte agevola l'ordine ma inizialmente potrebbe essere un po' spiazzante. Bisogna anche considerare che c'è da imparare come ridimensionarle e come spostarle perché è leggermente diverso da quello che si fa con macOS. Comunque cliccando sui tre pallini superiori si ha accesso a diverse opzioni tra le quali chiudere direttamente l'app oppure spostarla dal monitor all'iPad e viceversa, non sono però riuscito a spostarle trascinandole semplicemente col mouse come si fa con macOS. E altra cosa bizzarra è che se clicco sul centro di controllo dal monitor questo si aprirà sempre solo su iPad mentre ad esempio la lista delle app le posso vedere invece contemporaneamente su entrambi i dispositivi. E altra cosa strana è che non si possono spostare le icone delle app d'iPad al monitor esteso e quindi il monitor rimarrà così semplicemente vuoto per sempre. Una cosa buona però è che da impostazioni si possono andare a settare tutti i parametri ad esempio anche quelli di zoom per regolare la risoluzione in base alle esigenze o ai diversi monitor utilizzati. Però prima di continuare è giusto che vi dica che anche sul mio iPad Pro ho ovviamente installato NordPass perché rispetto al gestore di password già integrato di Apple, NordPass mi consente di avere le stesse funzioni anche su tutti i miei dispositivi che non sono di Apple quando ad esempio vado a configurare un nuovo smartphone Android o un nuovo PC Windows così ho tutte le mie password già pronte comunque al sicuro perché NordPass è proprio un gestore di password e loro sono tutti all'interno di un unico account con un'unica password e quindi cosa fai? Ne scegli una serie molto forte e ti devi ricordare solo quella ma al di là di questo quello che trovo realmente molto utile è il generatore di password ogni volta che ci registriamo a un sito o un account dobbiamo inserire una nuova password e NordPass è in grado di generare password incredibilmente sicuri le associa all'account le tiene tutte sincronizzate in pochi passaggi si ha una password diversa per ogni account sempre a portata di mano così quando ti vai a logare nei vari servizi sei a posto fidatevi fatelo sono troppe le persone che sento amici conoscenti che subiscono hackeraggi degli account instagram dei siti youtube semplicemente perché chi trova una password poi con quella entra in ogni servizio in cui ci siamo registrati o poi con NordPass si possono sì memorizzare le password ma anche le domande di sicurezza i dati delle carte di credito e persino le note sicure e tutto è sempre sincronizzato su tutti i nostri dispositivi pensate che già nella versione free quella gratuita offre tutte le funzionalità di base ma se volete qualcosa in più la premium allora io vi posso lasciare la mia offerta con link qui sotto che sul piano biennale vi permetterà di avere un costo di pochi centesimi al giorno e in più un mese in regalo credo che sia una cifra adeguata per la propria sicurezza digitale e voi cosa dite ma detto questo come state vedendo già da queste immagini al di là di alcune limitazioni l'esperienza di utilizzo intesa come potenza di sicuro non manca tutto gira con estrema facilità oserei dire in alcuni casi anche meglio che sulla controparte mac con chip m2 e in generale multitasking funziona abbastanza bene non c'è la benché minima incertezza nemmeno attivando più task contemporaneamente o la riproduzione dei video mentre si lavora a proposito di musica e video ci sono rimasto un po male perché l'audio esce si dagli speaker del monitor ma non è possibile attivare airplay quando il monitor è collegato la cosa mi sembra alquanto assurda perché le cuffie invece le posso collegare mentre i miei home pod no questo almeno finché il monitor resta collegato via cavo e altra cosa bizzarra è che i giochi non possono essere messi in modalità tutto schermo sul monitor esterno rimangono sempre così in modalità finestra insomma piccoli misteri piccole bizzarrie tipiche di apple per quanto riguarda invece la gestione dei file io continuo a non capire chi dice che il file manager di ipad os sia inutilizzabile in realtà mi ci trovo bene anzi molto bene e anche la gestione dei file in locale in versione ibrida con quelli sul cloud trovo che sia una comodità in questa configurazione se avete un monitor con le porte usb c meglio ancora se sono thunderbolt beh basta collegare un ssd esterno qualsiasi altra unità di memoria al monitor per vedere o trasferire i file a una velocità tutto sommato soddisfacente senza dover fare altro insomma secondo me per quelli che sono i normali task che si possono fare con un computer mi sento di dire che ipad in questa configurazione si può sostituire un computer anche safari come avete visto si comporta come su mac fatta eccezione per le estensioni e se non c'è bisogno di utilizzare software che non esistono in versione ipad ecco usare ipad con monitor esterno può essere davvero un sostituto del computer volendo si può fare anche del montaggio video ad esempio luma fusion supporta la visione sul monitor esterno anche se però la timeline deve essere gestita da ipad in modalità touch col pennino non funziona il mouse anche qui cosa strana che forse miglioreranno nel tempo queste dunque sono le mie conclusioni la mia esperienza ma sono curioso di sentire anche voi come la pensate e soprattutto spero che questa mini guida vi sia stata utile o anche solo sia stata interessante per voi e se così fosse sapete già che per supportarmi basta semplicemente un like o l'iscrizione al canale grazie da Manuel Agostini e noi ci vediamo per un prossimo video sempre qui sul mio canale youtube